Dov'è il signor Sumida? Oh, lui se n'è andato, ha parlato, ha parlato di, di vacanze. Cosa? È fantastico, Eili. E mentre non c'eri, ho scoperto che, che mi hanno dato la borsa di Studio Rand. Sul serio? Sì. Coso, vai forte. Gran giorno per tutti. Peccato che non c'ero. Oh no, non posso guardare. E non posso non guardare. Presidente Evans. Sì? Abbiamo deciso di arrivare. Lo so, che sembra imperdonabile. Sembra? E mi dispiace. È così a lei sembra? No, lo so, lo so, lo so. Tutto questo è ridicolo. È l'ultima cosa che avrei voluto. Non si rivederà. Ne ho avuto abbastanza. No, ecco, se solo lei... Basta con le scuse. Il suo lavoro è quello di proteggere gli studenti, non di abbandonarli. È licenziato. È licenziato. Bello. Se sei Spider-Man, deve essere dura tenersi un lavoro. Ma... Di certo tu ce la farai. Ehi. Mi spiace per il lavoro. Se ti può consolare, abbiamo avuto insegnanti peggiori. Ah, posso aggiungerlo al curriculum? Senti, il New York Bulletin ha lanciato un concorso fotografico. Ho inviato uno scatto ieri. I soldi sono pochi, ma sono sempre soldi. È il giornale di Robbie Robertson. Un tempo lavoravamo insieme al Bugle. Penso di sapere cosa sta cercando. Grazie, Miles. Di niente. Se ho tempo, invierò qualche altro scatto anch'io. Robbie diceva sempre... Non mostrarmi la città. Mostrami New York. Niente male. Fatto. Ora lo invio e... Peter, come stai, ragazzo? Ciao, Robbie. Scusa l'improvvisata, ma volevo informarti che ho appena inviato una foto per il tuo concorso. Splendido. La pubblichiamo di sicuro. Ora devo scappare in riunione. Se catturi qualche altro angolo autentico di New York, mandamelo. Mi ha fatto piacere sentirti. Anche a me. Grazie. Scusa l'improvvisata. Scusa l'improvvisata. Perfetta. Mia nonna me ne parlava sempre. Si faceva tutto il ponte a piedi ogni domenica per andare a comprare le verdure più fresche in città. Un giorno però, più tardi, un tizio le soffiò tutti i pomodori da sotto il naso. Ecco così che conobbe mio nonno. Scusa l'improvvisata. Non abbiamo l'aria condizionata, però tira una bella rietta e quando la porta si apre fa passare quel profumino di hot dog... Oh mamma, non c'è niente di meglio. Come ti pare? Era buona? È buona, la porti. Se non lo è, la caccia. E poi dietro... Guarda chi c'è nel quartiere! Ehi! Mi hai rubato le parole di bocca! Guarda chi c'è nel quartiere! Non so più dove metterli. Ma hai avuto grandi recensioni. E ho venduto solo 14 copie. La simcaria non interessa a nessuno. Il bugle detta legge in città. Li posso fare la differenza. Ma se mi licenziano, non so cosa fare. Davvero, per trovare la tua strada ti serve il bugle? Ho provato a fare qualcosa dall'esterno e... Solo 14 copie. No, devo... Cambiare le cose dall'interno. Non ho avuto tempo per pulire. Stanza sul retro? Già. Intanto... Metto un po' in ordine. Mei ha ipotecato la casa per tenere a Galla il fist. E ora affondo io. Vorrei dedicarmici. Ma non trovo mai il tempo. Peccato che l'insegnamento non abbia funzionato. Che farai ora? Non lo so. In realtà vorrei prendermi una pausa, ma... Non posso proprio permettermelo. Beh, perché non vendi la casa? No. Non posso. Cioè, potrei, ma... Non posso. Nel frattempo... Potrei pagare io l'ipoteca? No, non posso permettertelo. E poi dicevi che Jonah potrebbe fare dei tagli. Non mi lascerò licenziare da lui. So quanto tieni a questa casa. Troveremo una soluzione. Ah, non ti merito. Non mi lascerò licenziare da lui. Ehi, hai ripensato all'idea di trasferirti qui? Ne abbiamo già parlato. Io devo vivere in centro, vicino all'azione. Ma pensa alle cenette romantiche che faremmo. E da quant'è che non torni a casa per cena? Colpito. Ehi, e questa roba? Sono tutte cose di me? Sì, vorrei donarle in beneficenza, ma non ora. Che cosa guardi? Alcune tue vecchie foto molto carine. Cavolo, non le vedevo da parecchio. Penso fosse in camera mia. Perché scattare una foto? Equilibrio. Cosa vuol dire? Chissà sia ancora lì. Diamo un'occhiata. Fammi sapere cosa trovi. Io continuo a sfogliare queste foto che mi tenevi nascoste. Oh, che spadatone. Servirebbero delle candele. Gli adulti mettono le candele in bagno, giusto? Oh, cavolo. A volte ti prende alla sprovvista. Profuma ancora di me. Ma dov'è che era quel foro? Spider-Man, pericolo o minaccia? Le linee sono aperte. È una minaccia. È anche bella grossa. Lasciatemi dire una cosa con questo cosiddetto supereroe. Non è super e neanche un eroe. Quindi come dovremmo chiamarlo? Un impostore? Un esibizionista? Ve lo dico io? Cosa succede? Niente. Peter. Ecco, mi sembrava... Pensavo... Credevo che ci fosse un topo nel muro. C'è qualcosa che non va? No. Stavo soltanto... Alla tua età ero a capo del club di dialettica. Capitana della squadra di calcio nonché secondo violino dell'orchestra. Ogni anno raggiungevo sempre un nuovo traguardo. Ma quando decisi di puntare a essere anche la prima della classe sono crollata. Dalle celleri in qualcosa non sapevo più fare niente. Così... ho rallentato. L'equilibrio è un processo non un traguardo. Ci sto ancora lavorando. Avanti. Su, coraggio. Forse May aveva ragione. Non posso fare tutto. A qualcosa devo rinunciare. Dovrei tornare da MJ. Ci sono novità. Domani Raft invierà due prigionieri a Ravencroft per le valutazioni. Sappiamo chi? No, ma voglio scoprirlo. MJ! Sono ancora troppo debole per i tuoi abbracci. Scusa. Harry. Mi sei mancato. Mi sei mancato anche tu. Ho saputo di May. Peter, mi dispiace. Com'è andata in Europa? Dovete scusarmi. Mi hanno messo in isolamento per le terapie qui in città. Non volevo farvi preoccupare. È la stessa malattia di tua madre? Beh, era. Al passato. Pare sia in remissione. Ma... Ma Harry, questo è... Non posso crederci. Stai... Alla grande. Puoi dirlo forte. No, devo tornare al lavoro. Cena domani. Connie Island? Come ai vecchi tempi. Andata. Questa è nuova. È un'abilità che ha sbloccato nel suo viaggio in simcaria. Scusa se sono venuto senza avvertire. Ma cosa... No, ma figurati. Vuoi entrare? In realtà... Speravo di fare un giro insieme, se hai tempo. Certo. Non posso credere che la scassomobile funzioni ancora. Ho pensato... Di stupirti con questa. È la mia vecchia bicicletta? No, l'ho trovata su internet. Però è quasi identica, no? Wow. Sì. Ha addirittura gli stessi adesivi. Sicuro che non sia la mia bici. Sei pronto? Sì. Dove andiamo? Lo vedrai. Forza! Stammi dietro! Sei sicuro di farcela? Ah, sì. Mi sento bene. Usavo il bastone per sicurezza, ma... Non mi serve. Mi sembri molto più in forma di me. Allora, dimmi tutto. Che hai fatto di recente? Solo supplenze tra un licenziamento e l'altro. Do anche ripetizioni a uno studente delle superiori. È... Speciale. Ed è anche fortunato. Non avrai mai passato l'esame di calcolo senza di te. Ah, ho letto del tuo vecchio capo, il dottor Octavius. Roba assurda. Diciamo così, sì. Mi è dispiaciuto che tu non ci fossi. Harry... Perché non mi hai detto che eri malato? Sarei corso da te. Non sarebbe stato un bello spettacolo. La terapia è stata orribile. Galleggiavo in una capsula curativa. Mi provocava incubi terribili. Una capsula? Wow. Cure sperimentali. Sarà stata... Dura. Mi spiace, Harry. Ma... Siamo alla Midtown High. È lì che stiamo andando? Ne confermo, ne smentisco. Ah! Questo posto sembra identico a com'era dieci anni fa. Grazie. Vieni. Perché siamo qui? Noi odiavamo il liceo. Ti ricordi di quando Flash e i suoi amici mi hanno preso e rotto il portatile? Perdemmo la presentazione. Per il concorso dei giovani imprenditori ci avevamo lavorato per mesi. E la finale era il giorno dopo. Avevo un backup su una USB. Ma era nel tuo armadietto. Avevamo chiamato la scuola per poter entrare. Ma dopo ore ci dissero di no. Eravamo così disperati che abbiamo provato ad aprire tutte le porte della scuola. Per poi... Arrivare a questa? Aspetta, cosa vuoi... L'avevamo forzata. Si va? Non c'è nessuno. Andiamo. Sei sicuro che la chiavetta sia lì? Quasi. Cosa? Non ne sei sicuro? Lo ero? Cioè, lo sono. Perché me lo chiedi ora? Non lo so, sono nervoso. Ora è il turno di una giovane promessa. Il numero 12... Aspetta. Eric Monacelli. È Baseball Rick. Che ci fa qui di venerdì sera? Ascolta la partita. Continua a giocare come stai facendo, ragazzo mio. E vedrai che diventerai una leggenda. Corriamo fin là. Aspetta. Ci vedrà. Hai segnato due punti. Questo ragazzo ha la stoppa del campione. Sono sicuro che... I tifosi hanno chiesto alla squadra un'ultimo sforzo in questo... Cerca di fare rumore. E i giocatori non hanno alcuna intenzione di deludio. Sporca troppo. Preparati un placcaggio, Flash. Sì. Questo è stato un grande intervento difensivo. E si torna a tanto... Bene. Andiamo. È roba da criminali. Sono un criminale ora. Non ti ho detto che ho mostrato la nostra presentazione a mia mamma. La trova fantastica. Ha criticato solo una cosa. Il nome. Lei ha suggerito curare il mondo. Cavolo! Ma è perfetto! Vero? Vada per curare il mondo. Ora l'unica cosa che ci separa da un mondo migliore è quella chiavetta. Una volta di sopra il tuo armadietto è uno dei primi, vero? Giù! Ci ha visti? Non credo. Dividiamoci. Ci vediamo in palestra. Ehi! Chi c'è? Siamo nei guai. Siamo nei guai. Ma è dei... No, le ho finite. A qualcuno piace giocare, eh? Devo riuscire a ricaricare il lancio a ragnatele. Dovrei avere del fluido nel laboratorio fotografico. Devo imparare a gestire meglio il mio fluido di ragnatela. Il ragazzo deve essere qui. Quindi, biblioteca-laboratorio, laboratorio-palestra, palestra-armadietto. Facile. Via libera. Meglio muoversi. Che cos'è? Ehi! No, avrei dovuto salvare il progetto online. Sono sicuro che fosse un ragazzino. Le grate. Le migliori amiche dei ragni. Ok, dove ho lasciato il mio fluido di ragnatela? So di averli messi qui, da qualche parte. Trovati. Oh, cavolo! Non ti fermare, non ti fermare. Ok. Ora serve solo un bel mix. Ciao, amico mio. Devo trovare il modo di aumentarne la capienza per non restare più a secco. E ora, da Harry in palestra. Ah, per raggiungere la palestra, devo passare oltre quella ventola. Un vecchio zaino. Non ricordavo fosse qui. Dovrei iniziare a segnarmeli. Non riesco a liberarmi di lui. Devo distrarlo se voglio uscire da qui. Oh, cos'era? Meglio darsela a gambe. Spermo dove sei, ragazzo. Non scappare. Harry sarà già in palestra. Devo sbrigarmi. Oh! Baseball, Rick! Devo allontanarlo dalla porta. Scusa il disordine, Rick. Ok. Ora, venitemi a dire che non c'è un fantasma. Non un fantasma, ma un ragno. Ehi, pensavo di avessero preso. Ricopriamo la chiavetta e andiamocene. Tagliamo per la palestra. Che ricordi. È stato incredibile. È rimasto tutto com'era. Tranne le guardie che ci inseguono. Quindi, abbiamo tempo per fare due tiri. Sicuro di farcela? E tu, piuttosto? Fatti sotto, chiacchierone. Ora mi scaldo, ok? Ok. Bello! Sono davvero felice che tu stia meglio. Sul serio. Grazie. Ehi, sei riuscito a sistemare la casa di May? Per ora no. Sono stato impegnato. Non lo so. È strano cambiarla. Certo. Deve essere stata dura, Pete. Capisco. Ok. Ci siamo. Quando vivrai con MJ ti aiuterà con la casa. Non lo so. Dici di no? Non so se verrà da me. Oh. Credevo che andasse bene tra voi. Era a casa tua. È complicato. Ma andrà bene. Come sempre. A quanto siamo? Non ne ho idea. Neanch'io. È bello essere qui. Ti ringrazio. Prego. Ma non è ancora finita. Conosco quello sguardo. Che cosa ha in mente? Sai ritrovare il tuo armadietto? Secondo te dov'è quella guardia? Nell'ala est almeno credo. Allora prendiamo l'OSB e andiamocene. Dobbiamo punire Flash per averti rotto il computer. Lascia perdere. Lascia perdere. Non può passarla, Alicia. È il capitano della squadra di football. Io canto nel coro della scuola. Certo che la passerà Alicia. Ci vendicheremo vincendo il concorso di domani. Presto, qui sotto. Tornerà nell'ascensore. Ah, ho già controllato questo piano tre volte. È una caccia ai fantasmi. Grazie a tutti. C'è qualcuno? Che succede? Andato. Oh, che fortuna. Sì. Prendi la chiavetta e andiamo. Che cos'è? E come dai? Prendilo. Oh, cavolo. Chi c'è? Niente male. È d'accordo anche lui? Oh, no. Corri. Così ci farai arrestare. No, se non ci prende. Non è il tipo di nostalgia che mi piace. Hai ancora la chiavetta? Sì. Dobbiamo uscire da quelle porte. Dai, ci siamo. Aprite la polizia. L'ho chiamata io. Siete nei guai adesso. Vai. Va. Trattieni lì solo un minuto. Ho un'idea. Che cosa dovrei fare? Vabbè, non farti prendere. Ma certo. Polizia, aprite! Ehi, ci ha chiamato lei? Già, sono qui da qualche parte. Ok, voi due date un'occhiata. Noi parliamo con questo tipo. Devo isolare la guardia per recuperare la chiavetta. Sono qui, da qualche parte! Mi stiamo cercando, ma serve una testimonianza. Cosa hai visto? Baseball Rig. Voglio dire, il bidello. Ha sentito dei rumori. Ma lui è un tipo un po' originale. Originale? Cioè, è mezzo matto o...? Diciamo che ha le sue idee. Beh, è convinto che nella scuola si nasconda un fantasma. Ma non c'è nessun fantasma. Solo dei ragazzini. Ragazzi... Oh! Cosa hai visto davvero? Beh... Cos'era? Possiamo dare il via alle danze? Bene. Ora devo solo distrarre l'ultimo tizio. Non muoviti. Torno subito. È solo. E ora una cosina che amo chiamare furtarello a testa in giù. Questi ragazzini mi prendono in giù. Bene. Come se avessi tentato. Quello è proprio sopra di lui. Jerry mi starà aspettando alzato. Magari io... Presa. Che cos'era? E ora come me ne vado da qui? Occidente. Sono nell'ufficio. Non mi capisco. 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 Ok, devo andare. Ce l'hai? La polizia! Non è la polizia. È mio padre. Papà, ti avrei chiamato una volta a casa. Tua madre. Che è successo? Peter, puoi scusarci per un momento? Harry, che cos'è questo? Penso avremmo vinto quel concorso, avessimo partecipato. Gli ultimi anni sono stati intensi. È un miracolo che io sia ancora qui. Ho una seconda occasione. E non intendo sprecarla. Ma ho bisogno di te, Pete. Wow, sai... Non me l'aspettavo. Perché non vieni al laboratorio domani? Hai già un laboratorio. Ti presento le mie idee. E magari ne discutiamo insieme. Ci stai? Ok. Pete, cureremo il mondo intero. Monta, ultimo, 과сть è successo? Quaggio i fosti di ieri. Quaggiando per la sfida. Ci stai? Quaggiando per la sfida. Quaggiando per la sfida. Quaggiando per la sfida. Grazie a tutti Grazie a tutti